Le Olimpiadi di Parigi non vedranno uno dei grandissimi potenziali protagonisti, ossia Mokatir, che effettivamente, l'avevo già raccontato in un video precedente, è stato ufficialmente ieri squalificato per doping due anni per la violazione delle regole antidoping. Regola 2.4, per tre volte di fine in 12 mesi non era presente dove aveva dichiarato di essere, a febbraio era andato dalla fidanzata in Portogallo e il mitico controllore lo aspettava a casa, ad aprile era in Francia, a ottobre invece si stava allenando mentre aveva dichiarato che sarebbe stato a casa, ha sbagliato indicando la sera al posto della mattina tutta colpa della tecnologia e dei controlli antidoping, voi nel frattempo sei strong keep running, ci vediamo alla prossima, io comunque alle Olimpiadi ci andrò almeno a vedere.